Per puro caso, abbiamo conosciuto un nuovo canale, che nonostante la sua giovane età, meno di un mese, ha superato i 400 iscritti, tra cui il famoso Ciccio, il quale ha anche fatto i suoi primi apprezzamenti. Questo canale si chiama Lady Mastermind ed appartiene una donna trans molto particolare. Particolare perché, in uno degli ultimi video, dal titolo Davide Norimberti Io non mi arrendo vlog, la sirenetta di Ostia afferma di essere una persona unica e una donna alfa. E afferma, pure, che il suo modo di fare, quindi il suo provocare nei suoi video, è sicuramente legato alle visualizzazioni e quindi al guadagno, ma quello che dice è sempre vero. Quindi, di fatto, ci aspettiamo che il suo canale sarà pieno di contenuti provocatori. Interessante, sarà da capire quale modo userà per provocare. Comunque, come prima impressione, nell'ascoltare le sue parole e vedere il suo modo di fare, a noi è subito venuta in mente la diva del tubo. Nello specifico, Lady, la chiameremo così, dichiara di voler diventare l'amante di Davide. Sì, parliamo di Davide, il marito di Chiara d'Alessandro. Ed afferma anche, che lui ricambi, perché anni fa c'è stato uno scambio di messaggi e cuori, virtuali, tra i due. E lei gli propone una cosa che solitamente non fa, perché, afferma, lei quando incontra degli uomini, chiede, giustamente, sempre qualcosa in cambio. Non ha specificato cosa, ma noi abbiamo pensato a regali o denaro. Perché diciamo questo? Perché lei dice che, riconosce in Davide l'essenza dell'uomo alfa, e in quanto tale, lei non chiede niente in cambio. Né a lui, né agli altri eventuali uomini alfa che incontra. Ovviamente, a quelli beta, avanza richieste. E quindi, invita Davide a non perdere questa occasione. La sua proposta iniziale sarebbe quella di vedersi, fare una passeggiata, e passare poi una notte in albergo. Ma precisa, lei non vuole portarlo via a Chiara, non vuole sposarlo o andarci a vivere insieme. Lei non è innamorata di Davide, lei è una donna libera, disinibita, e vuole un rapporto aperto con lui. Lei vorrebbe, quindi, creare una relazione extra coniugale con lui, vederlo una volta al mese. Migliorarlo perché, è sì bello, ma lei lo vede appassito. Se iniziassero a frequentarsi, e sottolineammo gratuitamente, lei lo farebbe rinascere. E a questo, dice pure che lei, fino ad oggi, non ha avuto successo, perché ha un carattere chiuso, introverso e molto onesto. Insomma, per avere 27 anni, ha fatto un repentino e profondo cambiamento, almeno in base a quello che pubblica sul suo canale. Ovviamente, lei sa che la sua proposta è molto forte, e aspetta che la coppia di Milano le risponda in modo da poter generare visualizzazioni, come lei stessa ha dichiarato, ed infatti invita gli spettatori a seguire il suo canale a prescindere da questa sua proposta. Ma, come se non bastasse questa provocazione, ne aggiunge un'altra, con Davide. Ci sono stati in passato solo scambi di messaggi e cuori via chat, ma con un altro uomo, ex di un'altra famosa youtubers, che si chiama anche lei Chiara, si è andati ben oltre, perché ci è stato un vero corteggiamento. Ma Lady, per ora, non vuole raccontare oltre, almeno fino a quando non arriverà a mille iscritti. Perché, giustamente, deve superare questa soglia e le 4.000 ore di visualizzazioni, per poter richiedere l'attivazione della monetizzazione. Dato che il suo canale è, appunto, molto simile, ai nostri occhi, a quello della diva del tubo, crediamo che, ben presto, sapremo i dettagli anche di quest'altra storia e, se saprà non superare la linea di demarcazione delle denunce, sarà un canale che vivrà a lungo. Voi cosa ne pensate dei canali con questi tipi di contenuti? Noi pensiamo che lei non sia sincera e che stia creando contenuti d'impatto per poter arrivare alla monetizzazione ed iniziare a guadagnare. Ma se Chiara e Davide la dovessero ignorare, inizierà ad innamorarsi di altri uomini alfa di altri youtubers? Comunque, per ora, il suo piano sta riuscendo bene, quindi le facciamo sicuramente i complimenti.